Ben ritrovati su Rete7. L'impulso freddo ha raggiunto la penisola italiana, è scivolato velocemente verso sud con venti forti da noi, poi dopo soprattutto sul versante adriatico e al sud. Adesso la situazione andrà migliorando anche se ci saranno ancora dei refoli un po' più freddini. A risveglio, prima parte della giornata, dei rovesci di pioggia sulla Liguria e su zone di confine con la Liguria, poi queste nuvole tenderanno a sfilare sempre più verso ovest, come potete osservare dalla nostra grafica. Ampia apertura del cielo su zone pianeggianti, sul Piemonte, sulla Lombardia più settentrionale, solo su zone di confine, sui rilevi alpini, sulle Alpi ci saranno anche delle fioccate, ma sul resto del territorio è una situazione abbastanza tranquilla. Vediamo le temperature, comunque bassine, minime, poco al di sopra dello zero, in aperta campagna, in Liguria invece attorno ai 9-10 gradi centigradi, le massime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi centigradi, anche se gli effetti sul nostro territorio sono stati scarsi, però quantomeno un calo delle temperature c'è stato. Per il momento è tutto amici di Rette7, ora vi lascio ai nostri programmi, seguiteci come sempre, arrivederci. Grazie a tutti.